Ascolto incrementi dei venditi da dei biglietti, insomma Raffaella porta fortuna. Ma io spero di portare fortuna al di là dei biglietti della lotteria, perché la dea bendata si chiama Lotteria Italia, questa è la verità. Solamente che quest'anno l'abbiamo aiutata a rendere felici molte più persone e questa notte, certo, è la grande notte, perché abbiamo 15 miliardi, una cifra enorme, per una persona che ha già il biglietto in mano, questo è emozionantissimo. Lei ha mai acquistato un biglietto della lotteria? Me ne hanno regalati due, ma onestamente, come ho avuto già occasione di dire, io non gioco tanto alle lotterie, le superenalotto, non so, queste cose qua. Io gioco a 3-7, scopone scientifico. E vince? Sì, piena di coppe sono, io voglio vincere solo quelle gare. Ballo da capogiro, ballo, ballo, ballo senza respiro, ballo, 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 mi invento un passo, che fa così, fa così, fa così. Ha un numero fortunato? Io sì, di numeri fortunati ne ho, aspetti eh, 4. E li vuole dire? No. Perché? È perché sono miei quelli. Le mancheranno i suoi 40 ragazzi? Sì, molto, mi hanno dato una grandissima soddisfazione.